Ciao, come sedurre con la voce? Se vogliamo sedurre con la voce dobbiamo in prima istanza avere padronanza della nostra voce. La voce è potente nella seduzione perché è un ancoraggio emozionale molto forte, quindi riusciamo a rievocare delle emozioni molto potenti attraverso la nostra voce. Quindi dobbiamo imparare ad allenare la nostra voce. Possiamo avere fondamentalmente due tipi di voce. Una voce più incisiva, penetrante, quindi dove vengono stressate le parole, stressate le vocali e mandano dei segnali anche di comando. Una voce invece più tranquilla, pacata, potremmo dire romantica, che manda invece emozioni di altro genere. Quale delle due migliori? Beh, dipende, non si può sapere quale delle due migliori. Dipende che tipo di ancoraggio ha la persona, che tipo di emozioni evoca la persona. Quindi se vogliamo sedurre con la voce, inteso non con le parole che diciamo, ma con la tonalità, con la velocità, con la cadenza, dobbiamo avere la padronanza di utilizzare la nostra voce in modi diversi, con sfumature diverse, osservare di rimando la comunicazione non verbale dell'altra persona. Quando otterremo un segnale di gradimento, un avvicinamento, una dilatazione delle pupille, un ricalco dei nostri gesti, dei nostri comportamenti, vuol dire che abbiamo fatto 100. Stiamo seducendo, stiamo somministrando le giuste emozioni. Per cui devi calibrarti su quello e avrai uno strumento potente, analogico, capace di penetrare dentro la mente dell'altra persona, dentro la mente emotiva dell'altra persona e producendo quindi attrazioni. Perché vai a rievocare quegli ancoraggi, quelle emozioni nascoste nell'altra persona che danno nutrimento e quindi sarà la sua parte emotiva a desiderarti, sarà la sua parte emotiva a desiderare di compiacerti, si innamorerà fondamentalmente. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!